La comunicazione ha bisogno, probabilmente, di nuovi stimoli. Parlare tra di noi, vis-à-vis, al telefono, tramite social, forse non ci basta più. E allora guardiamo oltre, ma questa volta all'universo intero, allo spazio e alla magia delle stelle. Proprio così, dal 10 agosto, sarà possibile comunicare con tutte le forme di vita extraterrestri, grazie ad un progetto di Telespazio ed M3Sat, che consente di inviare messaggi, video e file multimediali nello spazio, destinati agli alieni, sempre che ci siano. Tutto vero. Il progetto si chiama Star Bottle, a message to deep space, che traduciamo in bottiglia stellare, un messaggio allo spazio profondo. L'iniziativa avrà anche finalità sociali. I proventi saranno destinati, infatti, a borse di studio per giovani universitari. Ebbene, il progetto vuole che ciascuno di noi possa provare ad offrire loro una modalità per conoscere questa Terra. Mandare messaggi agli alieni non sarà gratis. Avrà un costo minimo di 14,50€ per un testo, qualche euro in più per video e file multimediali. Quindi ognuno di noi potrà mandare un messaggio nello spazio. Primo lancio ad agosto e poi altri tre fino a dicembre. Un satellite porterà un carico di bottiglie stellari nello spazio. Tutti i messaggi saranno ricevuti ed elaborati nella sede di Telespazio di Avezzano, sistemati in un satellite e via, verso l'infinito ed oltre. Dobbiamo incuriosire gli alieni, mostrarci ospitali, costringerli a farsi vivi qui, sulla terra. Grazie per la visione!